bella raga ben ritornati questo il mio canale io sono massa e oggi come vedete siamo tornati nella serie di minecraft da quanto tempo che da quanto tempo che non la portavo intanto qua ci sono pecore ovunque guardate c'è ormai non è vediamo no non ce la posso fare vediamo allora ragazzi tanto via la pecore via da cassa mia guardate c'è un pecore là qui poi un paio lì dentro mattissimo io prendo l'escuo i sugarcane sono sempre comodo non so cosa mi servono però serviranno a qualcosa ok allora si sta già facendo notte ho appena avviato questo mondo da da non so da quanto tempo è che non ci entro probabilmente ragazzi da troppo tempo che non c'è ok raga dobbiamo riorientarci che non mi ricordo più praticamente niente allora intanto le sugarcane squad allora il mio piccone e la mia spada sono qui poi avevo la piantagione dove non mi ricordo più dove avevo la piantagione oddio dovrebbe essere di lì se non mi ricordo sì perché avevo la pozza gigante tipo magari l'ho fatto ci si ricorda allora ragazzi io no non è qua io ho anche la 1.9 ciao peco io ho anche la 1.9 come vedete qua il nostro albero di natale fatto quasi bene perché io non sono capace a farli gli alberi per lo speciale di natale non mi ricordo dove è la nostra piantagione se abbiamo una piantagione ah sì è la sopra e chi se lo ricordava io non me lo ricordavo vedete che raga non entro da un casino di tempo lì dentro c'è la mia miniera sì c'è raga non so più neanche dove vado io dice il portale del nether qua c'è la nostra scalona ok eccola qua ho tutto piantato cioè guardate figata qua quando è tutto piantato è davvero bello carote grano e patate qua c'era la capanna del contadino mi ricordo qua c'era le madonna le carote e il pan la pagnotta e i semi tutti e la madonna i semi beh adesso accogliamo un po di patate e dopo le ripiantiamo ci vediamo dopo quando avrò appunto piantate tutte e bello ok ragazzi ho finito non gli do ancora il bovmi al perché tanto questo video lo facevo solo per ritornare un po carote mettiamole tutte qui andiamo a costarci il pane che non è rimasto niente qua mi ricordo era lì blue bella madonna cioè vi ricordo le ore intere a passate per fare tutta sta roba cioè raga un casino di tempo ci ho messo con il mio caro amico laggiù tipo le ore interi a scavare c'è tipo 20.000 palle di ferro perché io avevo promesso che che l'avrei fatto e l'ho fatto io ho anche la 1.9 non so se ve l'avevo già detto credo di sì però ve lo ridico ho anche la 1.9 però non la metto ancora il fatto è cioè non la metto ancora perché c'è non mi piace non mi piace molto la 1.9 perché c'è introducono cose nuove su questo diciamo che tra un po di video faremo la 1.9 ok sono un deficiente che ho ancora tutta l'armatura e da tantissimo tempo che non ci entro veramente ehi ciao peccora adesso non puoi riuscire ah sì vabbè intanto io ho 38 livelli non so neanche di averli però vabbè ok vediamo il nostro mob spawner ok vediamo la madonna qua di bombial proprio a manetta qua proprio per farli infatti è uscita qua per fare il bombial così tanti archi ossa e varie robe sono stato a fk per un po di tempo mi mettevo dentro il cumulo di terra aspettate oh ce la va dentro quel cumulo di terra per un po di tempo ah no ho tolto la sugarcane qua cambia da zucca no che parla tutte le volte uscire la mia casa è particolare perché perché non ha né una porta né un tetto però vabbè così possono entrare tutti i mob che vogliono quindi allora ragazzi questo era solo un video fatto a caso non so quanto sta durando però c'è per rivedere il mio mondo appunto vediamo se ho qualcosa da fare boh costruire consigliatemi qui sotto nei commenti cosa costruire cosa costruire di eh aspetta come che ho ho i semi che mi da come cosa costruire di di case palazzi perché ho un casino di cobblestone ponti e buongiorno signore ah le pecore sono dappertutto ormai sono dappertutto intanto io vado a posare questi semi ah si consigliatemi cosa potrei fare nella mia serie di minecraft questa casetta la adu vediamo cosa ho qua non mi ricordo più neanche cosa oh merda cioè sto sto crepando mi salvo il pollo ah il pollo il pollo mi riempie il pollo cos'è che potrei fare di boh raga ditemelo voi ditemelo voi cosa potrei fare con la cobblestone boh non lo so rai non lo so sinceramente e io sono di nuovo un coglione ok vabbè meno male che ho questi a te ragioni ehi oh round one fight bello che se sto stronzo ti tocca vai a poco pure tu signori oh merdio john cena e ma non muore sta testa lì calmo boh boh perchè nella 1 punto rovi rischi di più di morire male ro male eeeh intanto 26 diamante spada di ferro da quanta che sto registrando boh raga consigliatemi cosa fare in questa serie abbiamo già fatto un casino di cose però io voglio vorrei fare altre cose cosa vorreste che io faccia perché io non so niente cioè io non so cosa fare eeeh adesso che io ho il cesoio tutto nuovo termine cesoiale oh cesoio mi con la pecora eeeh 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 Tornof ma no tu non le esci da qua hai capito cioè mi servi lì eoria eeeh e basta pecoreo vi uccido tutte ok comunque raga ditemi veramente cosa cosa vorreste che io faccio ioinhas Mi arrabbio Io non so veramente cosa fare Se ditemi qualcosa Andiamo a vedere un po' nel nether Ok Andiamo a vedere nel nether Ah già è vero che dovevo andare da l'altra parte Quello è questo Tappeto di Oh è vero che noi avevamo la fortezza A due passi Cioè tipo era là Adesso non vedo niente Scusate raga mi devo alzare Perché io non vedo mai niente O dovrei abbassare La luminosità Cioè alzare Non l'abbassare Vabbè raga per questo Vaidissimo vaidio Può essere tutto Ditemi qualcosa Qua c'è il tunnel bellissimo A me piace Un casano Qua si cade Ah già è vero che qua c'era la lava Mi ricordo Questo me lo ricordo Dopo ho tappato Per varie cose Qua c'era Sì Tra l'altro se prendi un piccone Cioè in due secondi Te la rompe Guardate Cioè la rompe veramente In due secondi La netherrack Comunque la fortezza Era lì Infatti ho preso Tutta sta roba Da lì Torniamo Oh signori Oh my god Oh my god Non vedo più niente Comunque ragazzi Anche se questo video È venuto un po' corto Ci saranno ancora I video lunghi Di una volta Allora Se questo video raggiunge I like Vedrò io quali Cercherò Cercherò davvero Tanto Di far ritornare La massacra Allora C'è Chi la adora Quella 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 serie È troppo Bella Cioè Era bellissima Cioè infatti Mi chiedono Dov'è la massacraft Dov'è Dov'è andata a finire Eh raga Proverò a farla ritornare Non lo so Proverò Io ci proverò Poi non vi assicuro niente Però Tento Io tento Quindi Per chi non sapesse Che cos'è la massacraft È una serie Moddata Con le Con le mod Su minecraft Tantissime Model c'erano Tipo 40 mod Ragazzi Era bellissima Quella Quella serie Però adesso Vi devo abbandonare Purtroppo Io spero che questo video Vi sia piaciuto E noi ci rivecca Alla prossima Mi raccomando Mettete like Perché questo è un gran ritorno E noi ci rivecca Alla prossima Bella raga Ciao